Viaggi in Europa e borse di studio, tanti premi per gli studenti piemontesi che parteciperanno ai concorsi indetti dal Consiglio regionale. Incidente frecce tricolori all'Asia, grande dolore per la morte della bambina. Superbonus 110%, presentate due proposte di legge. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati dalla storia contemporanea alla cittadinanza europea, dagli ambasciatori del Piemonte a Tolkien. Aperti i bandi per i concorsi rivolti alle scuole. Viaggi in Europa, borse di studio, pubblicazioni. I premi per i concorsi rivolti agli studenti del Consiglio regionale del Piemonte sono anche quest'anno di sicuro interesse. E c'è una novità. Le scuole e le classi piemontesi che intendono partecipare potranno farlo per la prima volta attraverso la piattaforma informatica Moon, al link presente sul sito del Consiglio regionale nella sezione Spazio Ragazzi. Concorsi classici che il Consiglio regionale ha fatto in tutti questi anni, che spaziano oggi su vari temi, facendo in modo tale che i ragazzi si avvicinino sempre di più alla cosiddetta cosa pubblica per conoscerla al meglio. Questi i concorsi dedicati ai giovani piemontesi. Progetto di storia contemporanea, giunto alla 43esima edizione, rivolto agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e agli enti di formazione professionale del Piemonte. Gli studenti possono partecipare con un elaborato scritto, una fotografia, un cortometraggio, un podcast, un torneo di dibattito. Oltre al viaggio studio in Italia o in Europa, i ragazzi vincitori potranno vedere pubblicati i loro lavori grazie alla collaborazione dell'Associazione Fotosfera di Ajace Torino e Intesa San Paolo Oneir. Promuovere tra gli studenti l'identità europea. Questo è l'obiettivo del concorso Diventiamo Cittadini Europei, giunto alla 40esima edizione e rivolto agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado del Piemonte. Il premio sarà un viaggio studio nelle sedi delle istituzioni europee. Torna anche il progetto Ambasciatori, quest'anno la settima edizione. Attraverso un video, un brano musicale rap, pop, rock, soul, jazz o di altro genere, inedito per testo e musica, oppure una fotografia, gli studenti dovranno approfondire i temi legalità, salute, ambiente e transizione digitale. Oltre a essere insegniti del titolo di Ambasciatori con il sigillo del Consiglio, i ragazzi vincitori parteciperanno a un viaggio studio entro la fine dell'anno scolastico. Novità di quest'anno, la Borsa di Studi Universitarie su Tolkien. In occasione del cinquantesimo anniversario della morte dello scrittore britannico, il Consiglio regionale mandisce un concorso che premia le due migliori tesi di laurea o di dottorato, redatte in un ateneo piemontese, dedicate allo studio dell'opera di Tolkien. Al primo classificato andranno 1.500 euro, al secondo 1.000. Questi bandi mettono ancora di più in evidenza l'importanza di essere cittadini, di essere consapevoli dell'altà di diritti e doveri, e quindi sicuramente attraverso il lavoro quotidiano dei nostri docenti, attraverso anche questi progetti, si potrà dare ancora più forza al processo di crescita, che sicuramente coinvolge noi, potrà ancora di più rafforzare i valori della solidarietà e di fare del bene per se stessi e anche per gli altri. Cordoglio da parte del Presidente Stefano Allasi a nome di tutta l'Assemblea per la morte della piccola Laura, vittima dell'incidente delle frecce tricolori a Caselle. Grande dolore per una terribile tragedia costata la vita a una povera bimba. Il Presidente Stefano Allasia ha espresso il cordoglio del Consiglio regionale per la morte della piccola Laura Origliasso, di cinque anni, che ha perso la vita sabato scorso nell'incidente aereo che ha visto coinvolto un velivolo delle frecce tricolori che si è schiantato in fase di decollo dalla pista di Caselle. Un tragico destino sembra accanirsi sul nostro territorio e ancora una volta piangiamo una giovanissima vita. Una fatalità crudele che ha trasformato quella che doveva essere una festa in un dramma. La vita, ha concluso il Presidente all'Asia, sa essere così ingiusta. Pochi giorni fa abbiamo accolto tutti i piloti, abbiamo condiviso pensieri ed opinioni con loro. Oggi siamo tutti distrutti dal dolore, ci stringiamo forte e siamo vicini alla famiglia della piccola bambina che non ce l'ha fatta. Superbonus 110%, presentate due proposte di legge. La Commissione Affari Istituzionali, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, fratelli d'Italia, ha svolto le prime determinazioni sulle proposte di legge 276, primo firmatario Stefano All'Asia, Lega, e 277, affirma Domenico Rossi, Partito Democratico, per interventi in favore dei crediti legati al superbonus edilizio 110%. Entrambi i primi firmatari sono intervenuti per chiedere un percorso rapido per la legge, molto attesa per le sue implicazioni pratiche. Per rendere il più veloce possibile il percorso del provvedimento, le consultazioni online sono state fissate nel termine di 15 giorni. Il consigliere del Movimento 5 Stelle, Sean Sacco, ha annunciato la presentazione di un'ulteriore proposta di legge su questo tema, che verrà inserita nello stesso percorso legislativo. I problemi del trasporto pubblico nei piccoli e medi comuni sono stati al centro di tre interrogazioni di Monica Canalis, Partito Democratico. Riguarda nel comune di Rorà, in provincia di Torino, la Valle Pellice, in particolare il problema della possibile sospensione del servizio in agosto nel comune di Prarostino, in Valle Pellice, con un isolamento di fatto per molti anziani del paese, che conta 1200 abitanti. L'assessore Marco Gabusi ha spiegato che Prarostino si trova senza servizio la domenica nei mesi estivi perché l'utenza è molto bassa. Sono comunque stati tutelati i servizi scolastici e lavorativi nei mesi da gennaio a luglio e da settembre a dicembre. La Giunta è impegnata con l'Agenzia per la Mobilità a rivedere i servizi e si possono fare delle piccole revisioni in attesa delle gare. Regioni e amministrazioni locali nel PNRR al centro di un convegno che si è tenuto alla Cavalerizza Reale di Torino. La mancanza di personale o di impiegati qualificati negli uffici pubblici potrebbe mettere a repentaglio l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questa è la principale criticità che si trovano ad affrontare le regioni italiane, Piemonte compreso, a circa due anni dall'approvazione del PNRR italiano da parte della Commissione Europea. La carenza di personale è oggi di circa il 35%, con punte del 50% in alcuni settori, e quanto emerso nel corso del convegno regioni e amministrazioni locali nel PNRR organizzato alla Cavalerizza di Torino dal centro interuniversitario di studi regionali Giorgio Lombardi in collaborazione con il Consiglio regionale del Piemonte, Università degli Studi di Torino, Università del Piemonte Orientale, il Piemonte delle Autonomie e Ires Piemonte. La grande opportunità che ci dà il PNRR sul Piemonte, sul territorio dei 1180 comuni, è enorme, e deve essere sfruttato al meglio. Perciò la regione continua a dare il prossimo opportunità, grazie anche alle collaborazioni con gli istituti privati, le fondazioni e anche l'università. Il vero tema sono le strutture di supporto ai comuni per l'elaborazione dei progetti, ma soprattutto non è tanto quello per l'attuazione dei progetti stessi e la rendicontazione successiva. Questo è il problema in assoluto principale. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci!